Ciao a tutti alieni e benvenuti in questo nuovissimo video In questo video voglio fare uno scherzo a mia sorella Maria Sole Visto che tra pochi giorni è il suo compleanno La voglio lasciare un po' con la mare in bocca Sono cattivo, ma era da parecchio che non facevo uno scherzo Quindi la mia vittima di questa settimana è lei Visto che lei ama tanto gli iPhone Gli farò credere che per il suo compleanno Io gli regalerò questo telefono Ma al suo interno non ci troverà un iPhone Ma un normalissimo telefono cinese che costa circa 100 euro Conoscendola la prenderà molto male Andiamo a fargli questo scherzo E speriamo che riesci bene Che Dio me la mandi buona Buona visione E noi ci vediamo alla fine del video Il suo vero regalo è questo in realtà E noi ci vediamo alla fine del video 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 se non ti piace si cambia questo è un piccolo regalo che ho fatto insieme a mamma poi voglio dire un po' le grazie ma perchè stai cosa? perchè si tu lo... perchè è un anno tuo a me è meglio davvero prima di tutto voglio un grazie perchè sono sicuro che tu farei i salti dei gioi appena vedrai sto regalo grazie dai ragazzo bravo e poi dopo inizierei a urlar e dicono oddio non ci credo non ci credo ecco si legami eh non lo so se ti piace poi se non ti piace lo prendo io dimmelo voglio chi chiude gli occhi quando lo scarti perchè voglio vedere l'acqua faccia appena lo vedi ok vieni ma te ma non riesco a chi si schiacciarla eh chiude gli occhi chiude gli occhi chiude gli occhi posso aprirli? vai no è impossibile si invece controllo dai che è questa faccia? non era questo il regale che volevi? è una scherzo ma che non ti piace questo regalo? io sei rimasto male io sei rimasto male vorrino sei rimasto male vieni qua kiko vieni kiko vieni kiko tranquilla che davete ti fa un bel regalo Ma questo non ti piace? Yeah, niente, ho francato Eccoci qua Spero che lo scherzo vi sia piaciuto Lasciate un mi piace e iscrivetevi al mio canale Che si trova il bottoncino qua sotto Noi ci vediamo in un prossimo video Qui da Davide è tutto E se vi va scrivetemi pure qua sotto Sempre qui sotto Alcune domandine Che mi volete fare Così io al prossimo video vi rispondo Bye Addio, addio Amici, addio Ma venite domani da noi Ciao